Allora Mister, una squadra tecnica come la tua su un campo che era praticamente una piscina, ha fatto una prestazione veramente da grande squadra con grandi giocate per 90 minuti. Ti sorprende sempre più giorno dopo giorno? Significa che stiamo bene, abbiamo giocato davvero con tanta intensità su un campo veramente infame e quindi sono contento e soprattutto sono segnali positivi in vista di questo rush finale di stagione dove saremo impegnati anche con la Coppa Italia e quindi quando hai questi riscontri sul campo sia fisici che mentali sicuramente c'è da essere contenti e da continuare così perché adesso vengono le partite che contano, specialmente quelle di Coppa e quindi bisogna essere pronti. È accorto a lavorare a livello tattico, le tue squadre non hanno mai cali di tensione, anche l'anno scorso, 30 partite su 30, quindi lavori anche molto sulla testa dei giocatori. Ma credo che faccia parte del compito di un allenatore. Adesso credo che più o meno tutti quanti sappiamo gestire la settimana anche a livello tattico, fisico e quindi credo che una componente fondamentale per gli allenatori sia proprio quella di lavorare sulla testa dei giocatori. È chiaro che poi quando ci sono annate come questa qui le cose poi vengono anche da sole, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, però insomma è ancora merito ancora di più a questi ragazzi che insomma stanno trottando e non mollano di un centimetro. Stiamo bene fisicamente, di questo bisogna ringraziare senza altro anche il prof. Bonsignori perché il lavoro fisico compete a lui e quindi stiamo molto bene fisicamente. Ecco, difesa tutti under escluso Barzotti e poi gli ultimi 25 minuti ha messo per la prima volta in campo Brega, Balestri e Granito e Balestri ha fatto una giocata all'ultimo minuto che non si vedeva nemmeno in campionati superiori. Sì, ha fatto davvero una cosa pregevole. No, questo mi fa piacere che rimarchi il fatto che è vero siamo forti perché siamo forti, abbiamo una rosa che con le altre squadre non ha niente a che fare, però ecco anche la soddisfazione di un allenatore è proprio quella anche delle volte di, anche per contingenze, però insomma di mettere in campo tanti giovani, come a Mussumano oggi avevamo quattro giovani nei cinque della linea difensiva col portiere compreso, quindi Azzerini ha fatto bene, lì ci ha fatto bene, Giacovelli ha fatto bene, quindi ripeto, sono tutti segnali positivi soprattutto in vista di quello che ci aspetta e quindi già domenica abbiamo un'altra partita tosta e poi mercoledì inizierà questa avventura di Coppa Italia a cui teniamo particolarmente. Avere delle risultanze così positive fa ben sperare anche nella gestione proprio adesso del campionato e della Coppa, visto che il campionato adesso i punti sono tantissimi, possiamo anche un attimino non giocare col fiato sul collo la domenica, però è chiaro che se fosse per me io volevo vincere tutti anche da qui alla fine, però insomma ci fa stare un pochettino più tranquilli. Infatti la domanda che ti volevo fare da ultimo era, visto che ci sono tanti punti in campionato pensi di fare un po' di turnover in vista della Coppa oppure cerchi di mantenere la squadra che diciamo ha preparato dall'inizio del campionato? No, il discorso è che noi da domenica prossima giocheremo praticamente mercoledì domenica, mercoledì domenica, tranne mi sembra un mercoledì e quindi sicuramente per forza qualcosa bisognerà gestire, poi ci saranno squalifiche, oggi per esempio Brondi ha preso la munizione quindi domenica non ci sarà, invece ci contavo molto perché insomma anche in ottica Coppa Italia, però insomma dai sono discorsi, io il carro davanti a voi non lo metto mai, vediamo giorno dopo giorno, però ecco la gestione della fase finale di Coppa con un margine di vantaggio come abbiamo è sicuramente una cosa positiva.